Gentili telespettatori, buona giornata. L'indiscrezione su Mario Draghi, solo con Giorgetti e Brunetta. Che cosa? Lui dà del tu soltanto a questi due ministri. Ma perché? Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, e Renato Brunetta, responsabile economia di Forza Italia. Brunetta e Giorgetti sono due economisti. Giorgetti è laureato in economia e commercio, se non sbaglio. E Renato Brunetta pure. I due neoministri del centrodestra non vantano solo di sedere alla destra di Mario Draghi, ma godono anche di un rapporto privilegiato. Lo svela il Corrierone della Sera. Il presidente del Consiglio dà del tu, a differenza di tutti gli altri con cui scambia un formale, lei. D'altronde Draghi conosce entrambi molto bene. Conosce Giorgetti da quando stava a Banca Italia e conosce Brunetta addirittura da una vita. Dunque al Senato è stato proprio Giorgetti a rimproverare, tra virgolette, Draghi, che stava applaudendo, stava quasi per applaudire per l'intervento di un senatore. Ha detto no, 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 non farlo. Non si fa dai banchi del governo applaudire un intervento. E poi rimproverato anche sulla gaffo sul coronavirus, quando Draghi diceva ci sono due milioni di pazienti in terapia intensiva. E Zinghetti no, 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 Mario, sono duemila. Ecco, la vicinanza di Giorgetti a Draghi è stata visibile anche alla Camera dei Deputati. Quindi i due sono stati visti, fotografati da D'Agospia, mentre divertiti se la ridevano leggendo il telefonino di Giorgetti. Che cosa si stavano dicendo? Che cosa si stavano raccontando? Stavano, secondo D'Agospia, stavano proprio leggendo dei pezzi di una rassegna stampa sul telefonino. Quanto basta per pensare al messaggero che il ministro leghista, ministro per lo sviluppo economico e numero due della Lega sia l'ombra del Premier, sia l'ombra appunto di Mario Draghi. Che è anche il numero due della Lega, quindi potente vice di Salvini. E ci sono delle indiscrezioni, voci di corridoio incontrollate, che dicono che sia stato proprio Giancarlo Giorgetti a far cambiare idea a Mario Draghi, che non aveva nessuna intenzione di fare il presidente del Consiglio. Quindi Draghi ha sempre negato questa possibilità. Si diceva proprio che Draghi è da escludere perché non dice di no, non ha intenzione, è per i fatti suoi, non vuole. Invece poi sembrerebbe proprio l'intervento di Giorgetti, e non di Mattarella, ma di Giorgetti, che lo ha convinto a prendere in mano le redini del paese. Ecco, diciamo, non si è recato in Umbria nel weekend per convincerlo faccia a faccia. Quindi si sarebbero visti faccia a faccia e sarebbe proprio Giorgetti ad averlo convinto. Quindi c'è un rapporto di amicizia, di confidenza, un rapporto strettissimo. La Presidenza della Repubblica, la tua destinazione finale, gli avrebbe detto Giorgetti, ma ora il paese ha bisogno di te, devi sporcarti un po' le mani. Era stato il suo discorso, perlomeno la sua ricostruzione. Quindi questo è quello che si sta materializzando, dove troviamo una lega entrata in punta di piedi tra una parte del suo elettorato che gli gridava di tutti i colori, insomma, è entrato zitto zitto Salvini e ha creato scompiglio, ha creato scompiglio, il PD è nei problemi, il Movimento 5 Stelle sta facendo la scissione, ha espulso molte persone e queste espulsioni hanno portato, come dicevo negli altri video, al ribaltamento di tutto. Al Senato, quella che era la maggioranza giallo-rossa, è diventata minoranza, con quell'espulsione di, mi sembra tra i 15 e i 22, e le 22 persone al Senato, ci sono anche quelli, ci sono anche quelli del, diciamo, quelli assenti ingiustificati, dove Crimi dice, beh, per essere giustificati devono essersi spaccati una gamba, devono essere ricoverati per Covid, perché tutte le altre cose comporteranno l'espulsione. E quindi, e quindi, è successo che proprio è cambiata la situazione dal primo giorno del governo Draghi, cioè ieri, che i numeri al Senato ormai sono favorevoli al centrodestra, quindi da adesso in poi non passerà legge se il centrodestra non è d'accordo, beh, naturalmente, ovviamente con l'appoggio di Giorgia Meloni, del gruppo misto, che sta naturalmente verso destra, ecco, con questi appoggi, diciamo, esterni. Quindi, un rapporto privilegiato adesso anche di Giorgetti, di Brunetta, che sono due ministri comunque di spessore. Credo che, ad esempio, Luigi Di Maio Draghi, sì, è lì come ministro degli esteri, ma non lo terrà certo in grande considerazione. Da una parte abbiamo una persona con quello che ha fatto come Mario Draghi, dall'altra parte abbiamo un ragazzino che litiga con i congiuntivi, messo al ministero degli esteri. È una cosa, una roba scandalosa, vedere da una parte Draghi, Giorgetti, Brunetta, Franceschini, Orlando, dall'altra parte vedere Giggino Di Maio il Grande. È un qualcosa veramente... che non trovo una definizione che si possa comunicare per questo mezzo video. Quindi, dal PD naturalmente vedono comunque questo esecutivo che ha cambiato, ha cambiato faccia all'improvviso. Bene, qualcuno di voi diceva, ma io non lo so, dobbiamo vedere quello che succede, perché la situazione è talmente liquida che qui ogni giorno cambia tutto. Ma è liquida non solo in politica, ma anche tra l'elettorato. L'elettorato si muove. Ad esempio abbiamo visto che la Lega sta mantenendo il suo elettorato, anzi è in leggera crescita. Dall'altra parte, la maggioranza dei sondaggi vedono Fratelli d'Italia in forte crescita. Ho visto un sondaggio proprio che è un video precedente a questo. Fratelli d'Italia viene vista al 18,9%, addirittura. 18,9%. Praticamente, scusate, forse 17,9%. Praticamente al 18%, con una distanza dell'1,3% dal PD. L'1,3% vuol dire che nell'arco di un mese, un mese e mezzo, c'è il sorpasso. Perché dai calcoli che ho fatto, Giorgia Meloni più o meno guadagna uno 0,5% ogni mese. Cresce più o meno di mezzo punto al mese. Quindi in un mese e mezzo potrebbe avere quel 75% di punto. Potrebbe, diciamo, in due mesi, tre mesi, arrivare ad agganciare il PD e sorpassarlo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo presto. Arrivederci a tutti.